Pillole di non solo suoni, la storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti al via di un nuovo appuntamento oggi all'insegna del biondo e del ritmo come quello di Rapture dei Blondie. Rapture infatti è un singolo del gruppo musicale statunitense dei Blondie, pubblicato il 12 gennaio del 1981 come secondo estratto dal quinto album in studio Auto American. Il brano è stato scritto da Deborah Harry, frontwoman della band e Chris Stein, compagno artistico e non solo. Al momento della sua uscita riscossa enorme successo, in Italia persino toccò la posizione numero uno per poi piazzarsi alla quarta nel Regno Unito alla quinta, mentre in America conquistò la vetta. D'altro canto Debbie Harry, la leader appunto, una vera icona del rock. Ma chi è la frontwoman dei Blondie? Beh, ha vissuto un'esistenza fatta di droghe, eccessi, momenti di perdizioni, persino traumi e anche però di successi e soddisfazioni, artisticamente parlando. Per questo oggi Debbie Harry è una sopravvissuta. Dalla guerra al maschilismo fino alle innovazioni musicali, la cantante di Heart of Glass si è raccontata in una controversa biografia di cui parleremo e che si intitola Face It. E per rendere omaggio al suo coraggio, alla sua sincerità, al suo talento, ecco qualche curiosità. Intanto il suo è lo pseudonimo di Deborah N. Harry, nata nel 1945 a Miami, dopo essere stata abbandonata dai genitori, si è trasferita nel New Jersey e ha trascorso qui un'infanzia tranquilla. Dopo il diploma, ecco che ha iniziato a posare come modella e cameriera e a fare la cameriera naturalmente per mantenersi nei club di Playboy. Ed è in questo periodo che collabora con i primi gruppi musicali, attirando l'attenzione del pubblico e anticipando l'abbigliamento punk. Conosce poi Chris Stein nel 1973 con il quale decide di fondare la band Blondie appunto. Il resto è quasi storia. Sono loro le canzoni indimenticabili come appunto Heart of Glass, di cui tra l'altro Miley Cyrus ha fatto una cover da brividi e Tomic e appunto Rapture. Indimenticabile però anche il video di Call Me, dove Richard Gere ha letteralmente bucato lo schermo. Debbie e Chris però hanno condiviso anche attimi di paura, tristezza, per esempio erano insieme alla notte in cui Debbie ha subito violenze sessuali. Lei l'è rimasta vicino quando Chris invece ha contratto una malattia quasi fatale che lo ha allontanato dalle scene e poi la coppia persino ha vissuto degli attimi di follia per via della dipendenza da eroina. Fidanzati per 13 anni, i due sono rimasti grandi amici. Lui si è sposato con l'attrice Barbara Sicuranza e ha avuto due figlie delle quali Debbie è madrina. Per i suoi capelli biondo platino invece lei si è ispirata a Marilyn Monroe, tutti all'epoca infatti la chiamavano Blondie proprio per via del suo colore particolare. Da questo soprannome è nato anche l'alter ego di Debbie, la Blondie riverente sexy che abbiamo avuto anche modo di vedere all'opera e di ascoltare. Chiudiamo allora ricordando un'ultima curiosità. Nel 2019 ha scritto un libro autobiografico dove ha raccontato veramente tutto di sé mettendo a nudo di fronte ai fan e questo libro si intitola Face It, un vero e proprio volume di memorie. Oggi invece Debbie si occupa ancora di musica e di concerti. Eccola allora all'epoca nel 1981 con Rapture.